Con un'emozione profonda che vi invito a guardare attentamente il prossimo video sul mio canale. Sarà uno dei momenti più intensi di tutta la telenovela, un momento che ha potere di toccare il cuore e l'anima. In questo video ho fatto una scelta consapevole, ho evitato di ripetere i momenti terribili in cui Unkar viene tragicamente uccisa da Beice. So che avete già avuto l'opportunità di esplorare i dettagli di questo evento tramite un video completo presente sul mio canale. Quello che ho deciso di fare in questo video è partire dal momento straziante in cui Demir ritrova il cadavere di sua madre, la disperazione che ne deriva, la sofferenza che i personaggi affronteranno e tutto sarà catturato nel video. Guardatelo attentamente e fine in fondo e lasciatevi coinvolgere delle emozioni che trasmette, immergetevi nella storia e sentite ogni sfumatura dell'emozione che viene rappresentata. Dopo averlo visto vi chiedo di condividere le vostre opinioni e sentimenti nei commenti. La vostra opinione è importantissima per me. Naturalmente se i miei video vi piacciono e vi commuovono vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale e di mettere un mi piace al video. Questo gesto mi incoraggerà a continuare a condividere con voi momenti intensi e coinvolgenti. Ed ora entriamo nell'atmosfera terribile di questo video. Intanto alla villa tutti stanno cercando Unkar, la cercano disperatamente. Dopo che lei aveva lasciato una lettera a suo figlio dicendole che lei ha deciso che sposerà Fecheli perché lei comunque è innamorata e hanno deciso che si sposano. Poi sparisce quindi non la trovano più e allora a quel punto Demir la cerca e va subito da Fecheli e chiedergli. Fecheli dice che non l'ha vista. A quel punto si mettono tutti alla ricerca e fanno intervenire anche la polizia e tutti i dipendenti perché proprio Unkar è sparita, non c'è più da nessuna parte. Fecheli e Ilmaz e i loro uomini la cercheranno da una parte mentre Demir e tutti i suoi dipendenti la cercano in un altro luogo. Poi improvvisamente uno degli uomini trova il suo e gli dice la zona in cui più o meno l'ha trovato. A che Fecheli parte e si reca subito in quel luogo cercando di vedere dove è sua mamma pensando che sia caduta in qualche dirupo, in qualche cosa. Iniziano a camminare e la chiamano, la chiamano disperatamente sperando di vederla. Poi improvvisamente Demir guardando tra i cespugli in lontananza vede come una macchia bianca. Una macchia bianca ferma, non capisce che cosa sia. Allora piano piano si avvicina e più si avvicina più il suo cuore è preso dalla disperazione perché prende coscienza che quella macchia bianca non è altro che il corpo di sua mamma disteso fra la sterpaglia, esanime, con quelle profonde ferite nel corpo che la lasciano lì, morta. La guarda e in quel momento la disperazione assoluta si impossessa di lui. Si ginocchia vicino a lei, la prende e guarda verso il cielo implorando, chiedendo di non farla morire senza rendersi conto che sua mamma però è già morta. Sarà una scena straziante dove vediamo il dolore espresso in ogni piccola piega del viso di Demir. Negli occhi, disperato, ha perso sua madre. A quel punto cosa fa? Decide di portarla lui a casa. Tutti gli uomini dell'azienda si sono vicini a lui. Stanno vivendo il suo dolore con la stessa intensità e la stessa profondità. Quindi la caricano sul furgone e lui si mette dietro, in ginocchio, tenendo sul suo corpo lo stesso corpo di Unkar ed appoggia la sua testa sulle sue gambe come volesse proteggerla, come volesse evitargli degli eventuali colpi e poi si dirigono verso la villa. Arrivano alla villa. Intanto Anzize, la nonnina, era uscita dalla casa perché chiedeva di sua figlia che non la vedono da un po' e la nonnina con i suoi piccoli bagliori di chiari scuri che ha nel cervello chiede dov'è, dov'è Unkar, dove è Unkar e tutti cercano di rassicurarla e le dicono di rientrare in casa. Un attimo dopo in villa appunto arriva Demir nel furgoncino con Unkar depositata sulle sue gambe. Tutti i dipendenti lo vedono. A quel punto anche Zuley la vede, si mette le mani nei capelli disperata. Sanier è incredula, non ci vuole credere, è bloccata, non si muove più. Demir non ha parole, è senza più sguardo, è proprio affranto, distrutto. È lì, in ginocchio, con sua mamma appoggiata su di lui, che non si muove più, che non reagisce, che non le dice più nulla. Non sa cosa fare, tutti gli uomini in villa sono disperati. Poi lui la prende, scende dal camioncino, la prende in braccio come se fosse un bambino e la porta all'interno della villa per accompagnarla e appoggiarla sul suo letto, nel letto di morte, per l'ultimo suo momento di saluto intimo con lei. Demir è come un'automa, si muove senza più pensare niente e mano a mano vede sua mamma ancora viva accanto a lui che le parla. Poi entra nella casa e l'appoggia dolcemente sul suo letto, come fosse ancora viva per averla lì, vicino. Eccola, distesa sul suo letto di morte, con Demir inginocchiato accanto che prega vicino a lei. Prega e la saluta, le parla. Zuleyla in quel momento entra e guarda la disperazione di suo marito, non sa più cosa dire, è affranta, anzi distrutta. La famiglia Yama sta vivendo dei momenti terribili, disperazione assoluta. Demir non riesce più a trattenersi e scoppia in un pianto disperato, vedendo la mamma così e capendo che è morta, che non potranno più nemmeno litigare, non potranno più avere un confronto, discutere. Sua mamma è morta. Le prende la mano, le parla, cerca quasi di farla rivivere. Poi si accascia, si accascia accanto al letto e lascia libero sfogo alla propria disperazione. Mentre Zuleyla entra per cercare di dargli conforto, ma non ha parole, è bloccata vicino alla porta guardando un uomo soffrire in quel modo, in maniera così intensa e fortissima. Intanto, dall'altra parte, i fecheli insieme a Ilmaz stanno ancora cercandola nel bosco, chiamandola disperatamente, perché non sanno che Unkar è già stata trovata. Quindi continuano a chiamarla, tutti gli uomini la chiamano. Poi improvvisamente vedono arrivare la macchina di Fikere, che scende, li guarda in faccia e purtroppo gli dice che Unkar l'hanno trovata, che Unkar è morta. Fikere è bloccato, fermo, distrutto, non vuole crederci. Non può essere che la donna che lui doveva sposare a giorni non c'è più. È disperato, si lascia andare a un pianto irrefrenabile. Ilmaz non sa più cosa fare, perché l'uomo che ha sempre visto duro davanti a lui, sempre pronto a reagire, è a terra, distrutto, come un sacchettino vuoto. Decide di recarsi a vedere dov'è Unkar per dargli l'ultimo saluto, mentre nella sua testa ritornano dei pensieri, dei loro momenti felici, di quello che avrebbero potuto fare insieme. Arriva alla villa e sale lentamente verso la camera di Unkar. Poi non sa se entrare o non entrare in quella camera, si ferma un attimo, poi affronta la realtà. Entra e vede sul letto Unkar distesa nel suo completo bianco, con quella profonda macchia di sangue a dimostrazione che Unkar è morta, immobile, ferma, bianca. E accasciato accanto al letto c'è Demir in una disperazione profonda che si è impossessata totalmente di lui. Fekeli la guarda disperato e vive i suoi momenti si rende conto che non c'è più, che non potranno più vivere tutti gli autunni insieme che gli rimangono da vivere. Entra, si avvicina, appoggia una sua mano sulla spalla di Demir come volesse dargli conforto e piangono insieme i due uomini che si sono tanto odiati davanti a una morte così improvvisa e forte, si abbracciano, si abbracciano per unire così il loro dolore e in quella stanza c'è un dolore unico, pazzesco. Poi improvvisamente Hamine che continuava a cercare Unkar in giro per la casa è sfuggita al controllo delle donne di servizio e arriva lì, entra in casa e vede sua figlia distesa nel letto e pensa che stia dormendo, quindi si avvicina alla carezza, le parla come se fosse una bambina. Naturalmente sappiamo che la sua mente non è molto limpida, quindi continua a parlarle accarezzandola. Poi improvvisamente, non si sa perché, la sua mente si apre e prende immediatamente coscienza che sua figlia è immobile perché è morta. Non ha più sua figlia e a quel punto inizia a piangere, inizia a parlarle, la chiama, le dice di ritornare da lei, le dice che la vuole ancora vicino, le dice che lei non può stare senza sua figlia. La copre con una coperta pensando che possa prendere freddo. Zuleyla dolcemente a quel punto la prende e la scosta da tanto dolore perché non è giusto fare vivere a una nonnina così dolce, un dolore così forte. Fecheli, Demir e soprattutto la nonnina sono disperati nel vedere per l'ultima volta Unkar che lascia la villa e se ne va e sanno che non tornerà mai più in quel posto, sanno che non la vedranno più. Tutti i dipendenti sono completamente sconvolti e disperati. Arriva anche Gulten con Cetin che piangono disperati. Dopodiché arrivano in villa gli uomini per poterla portare nella camera mortuaria. Caricano la donna sul furgone e la portano alla camera mortuaria dove Zuleyla, Sanier, Gulten provvederanno a fare le ultime pulizie per quel corpo che poi dovrà essere lasciato andare verso l'aldilà. Le lavano i capelli, la puliscono tutte. Affrante in quel dolore così forte, non sanno più reagire, non sanno se è vero o non è vero. Gli sembra a tutte che non sia possibile una cosa del genere. A quel punto, dopo averla vestita, preparata per l'ultimo saluto, ed eccola pronta per l'ultimo suo viaggio, con tutto il suo personale accanto a lei, ma soprattutto con tutto il dolore che esce dagli occhi di Demir, di Fekel, di Zuleyla, di Sanier, di Gulten, che era riuscita a conquistare, benché col carattere così difficile, ma li aveva conquistati tutti. Mentre Beiche gode di questa sua situazione, difatti è in casa con Musigan e ne sta parlando, come se fosse un avvenimento di cui lei non è assolutamente a conoscenza. Però nei suoi occhi si percepisce una specie di soddisfazione. Musigan non capisce questa cosa, ma Beiche la sta proprio vivendo così. Improvvisamente di sera, dopo che è stato fatto il funerale a Unkar, si accorgono che la nonnina non è più in casa, è sparita di nuovo come solitamente fa. La cercano un po' dappertutto, ma nessuno la trova. Poi a Demir e Zuleyla viene in mente una cosa, viene in mente che la nonnina aveva un legame particolare con Unkar e decidono di andare a vedere se per caso si è andata a vedere dove è Unkar, dove è seppellita. Ed infatti quando arrivano nel cimitero, proprio sopra la tomba di Unkar c'è la nonnina che gli ha portato un piatto di cibo come se fosse ancora viva e carezzando la terra, come se stesse accarezzando il suo corpo per la verità, le parla, le racconta tante cose, la tratta come se fosse una bambina piccola, anche se non vede il suo corpo, ma nella sua immaginazione lei la sta vedendo, perché Unkar è davanti a lei. poi piange, si dispera, perché si rende anche conto che adesso non la vede più. Ha dei momenti in cui la lucidità ritorna in lei, ha dei momenti in cui proprio lei è assente totale. Assente ma parla lo stesso con la figlia. Demir e Zuleyla la vedono, stanno un attimo zitti dietro di lei per lasciarle finire di manifestare questo dolore. Poi dolcemente la prendono e la portano verso casa. E lei non vuole allontanarsi da sua figlia, dice che non la vuole lasciare sola, ma loro la portano all'interno della casa e la mettono a letto con la dolcezza che è giusto dare a una nonnina che ha perso la figlia. Questo video finisce qui per oggi, ma volevo dirvi una cosa. Primo se vi siete iscritti al canale e lasciarmi un like, perché solo così mi aiuterete a continuare a tenere vivo questo canale. E l'altra comunicazione che volevo dargli è che nel canale troverete un video dove vi spiega i motivi veri del perché Unkar ha abbandonato la soap opera. E come promesso all'inizio del video vi metto un link in descrizione per far sì che lo possiate scoprire.